Sono le 6.40 di venerdì, siamo riusciti ad aprire la galleria nuovamente. Come vedete il traffico è di nuovo deviato verso la galleria. Abbiamo fatto passare il primo autobus con successo e quindi lo spazio contro me. Ovviamente dalle stime dei calcoli è passato tranquillamente. A 18 giorni dal crollo di calcinacci nella galleria di Muggia, con le radici degli alberi sovrastanti che incombevano sulla volta, il passaggio dalle rive a via Roma è nuovamente garantito. Le opere di centinatura nel tratto interessato sono state eseguite ribassando l'altezza massima del tunnel di 30 centimetri, ma consentendo comunque il passaggio degli autobus. Ma anche l'autobus, devo dire, come vedete anche dal filmato, è passato tranquillamente. Per cui in questo momento si riapre di nuovo come la normalità, quindi il traffico per quanto riguarda il mandracchio torna di nuovo nel senso inverso, cioè come era prima. L'inconveniente ha permesso, come ha spiegato il sindaco Paolo Polidori, di sperimentare la viabilità alternativa con semafori e sensi unici, che potrebbe tornare utile se andasse in porto il progetto di raddoppio della galleria, più volte indicato come un obiettivo in campagna elettorale. È stata una buona prova, nonostante sia il periodo invernale, per cui con un impatto molto meno grande sulla viabilità, però abbiamo visto che comunque può funzionare ovviamente in emergenza e in una situazione in cui la galleria dovrebbe essere chiusa per futuri lavori, per l'ampliamento.